Buone notizie sul fronte occupazionale nella nostra regione. Lo stabilimento Celta di Tortoreto è stato infatti acquisito dal gruppo Digital Platform SPA. Le modalità dell'operazione sono state illustrate questa mattina in conferenza stampa a Pescara dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dall'assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale e dal CEO di Digital Platforms Claudio Contini. Abbiamo risolto la vertenza Celta con l'acquisizione da parte di Digital Platform una società importante che non solo valorizzerà tutto il patrimonio tecnologico di competenze della Celta riassumendo tutto il personale esistente e anzi annunciando una crescita dell'azienda che porterà anche a nuova occupazione. È un lavoro che abbiamo seguito sin dall'inizio presentato anche in anteprima, prima ancora che si formalizzassero alcuni passaggi al Ministero perché conoscevamo la forza, l'autorevolezza, la serietà dell'azienda, ci abbiamo investito sopra e siamo stati ripagati in questo atto di fiducia da una soluzione positiva della vertenza che fa ben sperare anche per altri tavoli aperti su altre questioni occupazionali dell'Abruzzo. 65 dipendenti vengono reintegrati e per di più c'è l'azienda che ha rilevato la Celta che vuole fare nuovi investimenti che oggi facciamo questa conferenza per spiegare i dettagli. Quindi sono felice, la regione farà la sua parte anche in campo di politica attiva del lavoro se è necessario riqualificare il personale soprattutto anche a livello di ricerca potremo valutare delle convenzioni con l'Università Bruzzesi per cercare di sviluppare ulteriormente questo sito che sicuramente svolge un'attività molto attuale anche ai fini della transizione ecologica che è molto appunto un tema sentito a livello nazionale. Il gruppo è integralmente italiano fatto da aziende e di management integralmente italiani. Noi crediamo fermamente che i campioni nazionali siano una risorsa di questo paese e vogliamo farne parte. Noi abbiamo già confermato, preso l'impegno e confermato l'impegno di riassumere tutti i 65 dipendenti che ad oggi fanno parte dello stabilimento e abbiamo avviato insieme con le istituzioni locali dei piani per poter gettare le premesse per acquisire nuove competenze digitali e di cyber sicure di cui sentiamo grandemente il bisogno. A margine dell'incontro odierno l'assessore Quaresimale ha parlato anche degli sviluppi dell'avvertenza Ariello. È vero che l'ariello delocalizza però rispetto a qualche settimana fa abbiamo avuto un'apertura dell'azienda. Viene scongiurato il licenziamento di metà novembre, ci saranno gli ammortizzatori sociali e anche degli incentivi all'esito. Quindi rispetto all'inizio sicuramente dei segnali positivi. Noi anche lì come Regione cercheremo di dare il nostro contributo affinché si possa trovare un'azienda che possa rindustrializzare e ricollocare tutti i dipendenti.